Devo chiedere alla mia ragazza di sposarmi. Non sono davanti agli altri. Però è bello. Vi capita mai di pensare che una piccola scelta può fare la differenza nella vostra vita? Carlo non vede suo fratello da vent'anni. Andrea suona il violino, ma solo per se stesso. Massimo sta per trasferirsi a Monaco di Baviera. Tutti loro, anche se non lo sanno, stanno per fare una scelta. Non lo sanno, stanno per fare una scelta.